40 ore di diretta streaming 30 speakers tanti ospiti e programmi originali tutto questo è direttamente smart life il festival della cultura digitale raccontato dal radio fsc unimore buongiorno a tutti siamo ritornati su radio fsc unimore sono le 15 45 e niente questo momento in cui fondamentalmente conoscete un po gli speaker perché giustamente abbiamo intervistato un ospite interessantissimo ci hanno buttato qui dicendo avete 10 minuti di vuoto fate quello che volete ecco esatto e secondo me è giusto anche farci conoscere un po attraverso le nostre passioni attraverso quello che abbiamo da dire eccetera e poi perché siamo un po dei narcisisti patologici quindi abbiamo l'esigenza di parlare di noi e niente in realtà pensavamo di parlare di cinema però in 10 minuti secondo me parleremo poco di cinema più che altro secondo me è giusto verticalizzare un po il contenuto con uno dei film che ha fatto più parlare di sé ultimamente che è openheimer ci sta che visto con la modica cifra di 7 euro al cinema nel corso di reggio certo molto carino il cinema al corso devo dire lo sponsorizziamo e se non siete ancora andati a vederlo lo consigliamo a prescindere dal fatto che apprezzato meno nolan perché a me ad esempio fa schifo nolan e dico questa frase fortissima io mi permetto di dire che non ho visto nessun film di nolan e non posso diciamo fare una critica oggettiva è molto sopravvalutato allora secondo me comunque ha quella sua caratteristica mi hanno detto poi ho letto anche di utilizzare il tempo diciamo e cazzeggiare un po col tempo che si può dire no lui cazzeggia un po con tutto secondo me cioè non solo con il tempo però comunque openheimer si discosta un po dalla classica narrazione sire nolan cioè comunque verte sulla vita lo scienziato cerca un attimo di creare un filo narrativo bene o male si segue è pesante lo è andate a vedere un multisame ecco guarda che sia pesante dipende allora a livello cronologico e temporale sì perché sono tre ore di mattone questo sicuramente anche perché poi sono poi ti perdi ma tu non hai visto interstellar cioè interstellar è molto peggio e dura molto meno interstellar comunque sembra che tipo va indietro nel tempo ma sì perché ci sono i buchi neri quindi lui ci gioca però sai qual è la cosa che mi fa impazzire di nolan se la crede tantissimo cioè lui gira su una pellicola di 70 mm un po alla kubrick perché lui sostiene che gli unici registi che siano in grado di rivelleggiare con lui sono i grandi registi del passato kubrick arancia meccanica cioè mi sembra un po too much onestamente considerato che avrà una cinquantina d'anni cioè non è che sia gesù cristo è un cristo fernola però è molto bello a fare quei numeri lì poi comunque ha un suo perché secondo me anche diciamo la figura di christian marphy nel protagonista lui è un attore della donna azzeccatissimo bellissimo azzeccatissimo poi con quegli occhi azzurri mi ha rubato l'anima come attore nulla da dire nulla da dire sicuramente sarà nominato agli oscar anche da un giugno guarda che è stato rivalutato tantissimo cioè è passato da essere conosciuto fondamentalmente solo per iron man e al massimo sherlock holmes a ricoprire un ruolo da antagonista di tutto rispetto è vero è vero ho fatto un piccolo spoiler perché all'inizio non sembra l'antagonista ma lo è però va con la dello spoiler mi dispiace dalla fine siamo sulla fine proiezione che l'ho proiettato penso per qualche altra ma sì ma ormai l'hanno visto quasi tutti secondo me io l'unico film che non ho visto è barbie ma allora guarda barbie ha una sua ragione di andarla a vedere secondo me il fenomeno barbenheimer che è stato un fenomeno che ha vissuto tutto il mondo meno che l'italia è dispiaciuto infatti che sono usciti per chi non lo sapesse comunque barbenheimer è un trend che è uscito sui social ma sì in america in generale ma nel resto del mondo openheimer e barbie diciamo nella maggior parte dei paesi del mondo sono usciti lo stesso giorno e quindi si è creata questa domanda mistica da parte degli utenti di social network si andrà a vedere o prima barbie o prima openheimer ve la romanzo cioè praticamente barbie è un film che ha fatto paura a tutti perché si sapeva che sarebbe stato un film che avrebbe incassato l'ira di dio nolan chiaramente nella sua arroganza non ha paura di niente e quindi ha detto fanculo io openheimer lo lascio comunque all'interno del frame temporale di barbie e questa è stata una scelta vincente perché ha cavalcato l'onda di barbie assolutamente ed è il film di nolan che ad oggi credo abbia incassato più di tutti ma sicuramente penso perché comunque meritatamente aggiungo tant'è che vi faccio il momento della mia pippa poetica ma la vogliamo fare o voglio continuare ancora a parlare di perché no io voglio farla voglio farla allora lasciamo lo spazio di quanto dura due minuti due minuti lasciamo due minuti di questo buco che noi dobbiamo colmare a Edoardo Chiarle che ci leggerà diciamo una delle sue poesie certo prego allora praticamente questa poesia si chiama prometeo americano perché dall'inizio del film openheimer viene paragonato appunto a prometeo nel senso che è il dio che ha dato il fuoco agli uomini metaforicamente sarebbe la bomba atomica e quindi io ho fatto questa poesia ho revisitato il tutto e ho contestualizzato openheimer all'interno di un uomo primitivo che danza davanti al fuoco e intravede già la bomba atomica cioè un trip mentale incredibile come sta messo sto ragazzo ragazzi state attenti per le strade di moda nel dintorno certo sei pronto amico mio vada 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 prometeo americano ladro di sogni mercante di speranza prometeo ci donò il fuoco ma non ci insegnò come usarlo si fidava di noi o era solo l'ennesimo dio che voleva metterci alla prova non ho idee sono in estasi dinnanzi a me si trova la fiamma primordiale il mio corpo balla la mia bocca articola versi incomprensibili sono una scimmia forse poco più il tempo mi definirà uomo primitivo eppure la scintilla di chi sarò già vive dentro il mio patrimonio genetico l'ombra del peccato che mi macchierà le mani anzitempo oscura il sole del giorno che verrà il samsara è privo di occhi ma racchiude un'ironia beffarda il cervello non può sapere ma l'inconscio l'anima già racchiude il seme del peccato originale oggi ballo dinnanzi a una colonna di fuoco portatrice di calore e speranza ma domani strisciando di vita in vita diventerò colui che trasformerà l'atomo padre di ogni creatura importatore di morte cenere e guerra già lo so eppure perché fremo perché non vedo l'ora di vedere le attuali mie membra decomporsi in virtù dell'esistenza che verrà perché se oggi sono scimmia anelo d'essere scienziato per quale ragione se adesso non ho nome attendo con ansia che si è inventato l'alfabeto al fine di rubarne undici lettere oh pen i miei piedi danzano al ritmo di una musica immaginaria le note sono figlie di un'epoca che ancora non mi appartiene i peccati di cui mi macchierò ancora sono progenie di un tempo lontano eppure già da adesso mi pare di sentirle le urla degli adoratori gli applausi dei vincitori le unghie dei vinti tritano la carne del cuore tuttavia il tutto è poca cosa l'etica l'odio il prestigio sono le madri della vita passata presente e futura solo delle creature mortali e io prometeo di mortale non ho più nulla sono tuo fratello titano ladro della fiaccola che generò in me il seme di quel desiderio perverso uomini veneratemi odiatemi a me non interessa di dei rimarranno sempre dei lontani distanti incomprensibili sboooo questo era il pippone filosofico di Dardo Chiarle che ovviamente non può rinunciare a fare non posso no stiamo cavalcando diciamo il tema Oppenheimer quindi ci sta ma è possibile dalla regia mettere tipo i claps l'applauso in sottofondo se è possibile veramente oh mio dio mi sento benissimo abbiamo una regia professionale grazie grazie mille grazie mille poi vabbè abbiamo gli ultimi due minuti abbiamo appena intervistato Francesco Iodice comunque è una persona fichissima non pensavo fosse così eclettico pensavo fosse legato al mondo della fotografia dell'arte insensolato però ha parlato di tutto di cinema di pittura poi ha dato diciamo no ha messo la mina politica che voleva aggrapparmi io avrei voluto troppo vederti però perché se no avremmo finire le 17 quindi ma io rivedisco secondo me conoscendoti peraltro non sei così distante dalla politica che lui raffigura diciamo che un pochino cioè di quello che ha detto diciamo un pochino di idee divergenti vabbè giusto che ci sia ma ci siete due persone effettivamente diverse però comunque diciamo questa è una bella intervista non pensavo poi di parlare così tanto anche con te hai visto siamo dei chiacchieroni sì narcisisti no narcisisti un pochino sì un pochino sì non troppo non troppo un pochino leggermente e quindi questo invito tutti gli ascoltatori a partecipare alla Smart Festival qui a Modena certo abbiamo stand padiglioni in giro comunque così siamo fortissimi allora sono le 54 io potrei dire pure che possiamo chiudere ora abbiamo la prosecuzione nel nel parincesto e quindi sono le 15.54 qui da lo Smart Live da direttamente Smart Live Festival per il momento è tutto da Luca Di Brardino ed Edoardo Chiarle è tutto ciao ragazzi vi auguriamo una buona serata ciao 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 40 ore di diretta streaming 30 speakers tanti ospiti e programmi originali tutto questo è direttamente Smart Live il festival della cultura digitale raccontato dal radio FSC Unimore è tutto a